I numeri non mentono. In un mercato in ripresa le moto classiche sono quelle che stanno recitando una parte da protagoniste. In tempo relegato al ruolo di nicchia, questo segmento sta invece ormai regalando parecchie soddisfazioni ai marchi che ci hanno sempre creduto, convincendone altri ad entrare in un filone che porta la moto ad essere sempre più a misura d'uomo. Perché piacciono le classiche? Perché sono facili, rassicuranti, non invecchiano in poco tempo, anzi mantengono immutato il loro fascino con il passare degli anni e l'utilizzo diventando forse ancora più affascinanti. Per questo motivo in tanti le preferiscono ad altri modelli, magari più prestanti o anche più comodi, ma permettetici il termine, anche un po' più freddi. A oggi delle 100 moto più vendute in Italia, ben 15 appartengono al segmento delle classiche, un segmento che non c'era, ma che promette molto bene per il futuro e che certo non si fermerà qui. Quasi tutte le novità mostrate a Aekma nel 2016 sono entrate in classifica, a segno che le aziende hanno centrato i modelli e che soprattutto le scelte tecniche ed estetiche hanno conquistato il pubblico degli appassionati. Aekma 2017, il più grande evento al mondo dedicato alla moto, sarà ancora una volta un importante termometro per misurare la passione attorno a questo segmento, nato quasi in sordina e diventato poi il contorno di un vero e proprio stile di vita.